In quest'episodio parliamo della nuova prima sveglia di Nintendo, cosa? Ebbene sì, a cui le brand autostrade, regionali d'Italia, i nuovi pack di barilla della pasta al bronzo, quello di Twitch, un sacco di roba, perché le crocs per i cani, cosa? La sedia per mettere le robe quando... la lavatrice... sigla! Sì, buongiorno! Hola, buonasias! Allora, alla faccia vostra, tutti quelli che mi vogliono male, guardate, ho perso la voce per colpa delle vostre macumbe, sul urli troppo, fai casire... Fate bene! Stai parlando di noi? Fate bene! Premi uno se vuoi mandare una macumba a Giuliano! Dammi la camera di Mich, scusami! Sono stufo delle vostre macumbe, io non ne posso più! Guardate cosa avete fatto la mia voce, la mia spagnita voce, la mia iconica voce! Se vuoi continuare a mandare macumbe, digita 1 e arriverà una macumba a Giuliano, 2 e arriverà una macumba a Breccia! Due cose prima di iniziare! La prima, nei commenti, potete farci gli auguri, perché il 9 è il nostro compleanno, abbiamo compito 6 anni di Caffè Design, un applauso! Che bello! Cosa c'è chi ci sta ascoltando che ci ascolta da 6 anni? Sì, e ha iniziato l'università, ha finito l'università e ora finalmente se ne sta pentendo! Grazie a voi che ho iniziato l'università di design, adesso già dicono, per colpa vostra! Però esatto, se ci seguite dal giorno 1, comunque dal primo anno, scriveteci sotto, sono curioso! Non c'è, pensavo c'è una sorpresa per voi! Sì, c'è una sorpresa per voi! Potrebbe, grazie dall'altro a chi è venuto al DDD a farci un saluto, è Digital Design Day, esatto giorno! Bello, bello, bello! È stato molto divertente, guarda, voglio farvi vedere a chi non è venuto, abbiamo fatto questa bella lattina insieme ai ragazzi di Babo, il GinTronic, il Gin Tonic, vero, si chiamava GinTronic, io ve lo farvi sentire, però è bello, succoso! Molto bella, va bene, non ce la siano! Vabbè, io mi sto avvantando un po' delle cose che facciamo! Ci sa, hai ragione! Altra cosa che voglio avvantarmi, caro Preccia, caro Preccia, buttami sull'elettro e bottega al volo, perché? Perché? Perché settimana sono tornati a grandissima richiesta! I cappelli, i cappelli, finalmente ce l'avete chiesti in tanti, l'abbiamo riordinati e finalmente sono riarrivati, sempre in deadline, il bianco, il nero e il blu! Bello questa cosa! Sbang, il cappale! Back in stock! Bellissimo, bellissimo, bellissimo! Bastardi! No, in senso buono! Mi confermi che la promozione è ancora valida con la del poster? Yes! Puoi enunciarla? Allora, se con uno dei tre cappelli qualsiasi, anche uno dei quattro poster a scelta, viene venduto a soli 10 euro, quindi il cappello ti permetterà di avere uno sconto sul poster e comprarlo a 10 euro. Quindi uno sconto di circa 14 euro. 15 euro circa, sì, 14,90 per essere precisi. Spettacolare, spettacolare, molto bene, quindi poster a scelta, cappello a scelta, combo magica e venite a casa felici e contenti, comunque state tuned perché arriveranno cappelli nuovi, maglietti nuovi, cos'è? Va bene, basta, spoiler, andiamo avanti, diciamo le cose di questa... Oh, partiamo un po'. Nintendo ha fatto una sveglia, breccia, fammi sapere, fammi sapere. Ma tu l'hai visto qualcosa? No, e sono molto curioso, me la sono lasciata... Ah, che bello! Carina, eh? Allora, questa sveglia... Allora, è interessante perché mai Nintendo avrebbe fare una sveglia? Ecco. Allora, là il motivo probabilmente più plausibile è il fatto che stava lavorando su una tecnologia, la tecnologia, un sensore particolare da applicare nell'ipotetica nuova console. Nintendo è sempre stata molto forte nella sensoristica. Vi ricordate il Wii, le cose, eccetera, eccetera. Evidentemente su questo nuovo sensore, che in questo caso rileva il movimento delle persone, non ci hanno fatto niente. Ho detto, ma non sai cosa? Sai in uno di quei workshop, probabilmente, no? Che hanno detto, ma abbiamo investito un milione di euro in ricerca e sviluppo. Abbiamo finalmente questo nuovo sensore, che ci facciamo? Allora, fondamentalmente cosa fa questa sveglia? È a tema Nintendo, quindi tutti i personaggi di Nintendo, Zelda, Super Mario, tutti i personaggi, percepisce il movimento e quindi in base a quanto ti muovi suona, quando risponde e quando ti alzi smette di suonare. Ah, ok, ok. Quindi, cerco di spiegartela meglio, riesci a capire quando ti stai svegliando, risponde al feedback di movimento con un suono, quindi ti muovi e fa... Boom! E poi scoppia, no? Si disattiva, si disattiva. La cosa singolare, a parte che l'estetica è molto carina... Quindi un'interazione in dormiveglia. Esatto, esatto. Bello. L'unica cosa è che, secondo me, questo tipo di interazione, in quel momento, non so se per il brand di Nintendo è positivo, nel senso che io odio tutti la mattina. Ah, sì. Cioè, il suono della sveglia, vorrei uccidere chi ha inventato quel suono e sentire tipo Super Mario fa... Ma voi che suono avete della sveglia? Io a questo momento ho quella dell'iPhone, tipo terribile. Lo sai che io non mi ricordo il suono della mia sveglia? Manco io, manco gli ho detto qual è, esattamente. Quindi, bello. Se qualcuno si ricorda il suono della sua sveglia, lo dica Giuliano. Ok, grazie, ma devo un messaggio. Però è caruccia, è caruccia. Beh, lo si, anche esteticamente molto figa. Io, queste tecnologie mi lasciano sempre un po' stupefatto. Vedi, guarda che si muove. Esatto, esatto. Cioè, se uno si... Cioè, allora, chiaramente poi lui sa bene che è mattina, no? Sì, vabbè, se sei in due, vabbè, questo la lasciamo al caso. Guarda, vedi che quella cosa diminuisce, eh? Più ti alzi, più diventa piccola e poi vedi, scoppia. Ma, se ti muovi la notte, che succede? Inizia a suonare la notte? No, Giuliano, e dai, ovviamente, immagino che gli darai un range dove ti vuoi svegliare, no? Ah, certo, certo. Cioè, gli dici, voglio svegliarmi alle sette e mezzo e magari se c'è un momento in cui sei quasi nella sveglia alle sette e venti, ti svegli un po' prima. Bellissimo, bellissimo. Scusa, ci stai. Tu proprio non hai conoscenza delle sveglie smart. Conosco le tecnologie. L'IUI e l'IUX non è bellissimo. Dobbiamo essere onesti. Cioè, apprezzo l'idea, ma tutto quello che si vede su schermo non è bellissimo. Anche il fatto che la cosa vada sopra all'orario. Sì, è molto statico. Si poteva essere bellissimo dietro, l'orario cambiare. Comunque la sveglia è effettivamente uno dei prodotti più difficili probabilmente da fare al mondo, perché la gente la odia. Però guarda che bello questo. Guarda che bella l'interazione. Giri, vedi? Sopra c'è quel pomerino. Molto Nintendo questa cosa pure. Molto figo. E' una sveglia che richiederebbero infinite iterazioni, perché cambia con le persone. Esatto, ci potrebbe essere una sveglia per ogni persona diversa. Pazzesco. Come le sedie. Pazzesco. No, come le autostrade per l'Italia che erano anni. Va bene, allora, l'attivana scorsa, ho visto che l'avevate messo in puntata, io non c'ero. E poi avete snobbato la cosa, perché ho detto... Manca l'esperto, manca l'esperto. Perfetto, allora ragazzi, io non mi ringuerò molto, perché l'approfondimento è stato già fatto su Instagram, c'è un rilapposito, se avete perso la cosa. E Paganini non si ripete. E Paganini non si ripete. Tuttavia, la notizia è questa, autostrade per l'Italia, quindi l'azienda partecipata statale, credo, che di fatto detiene il potere, ha l'infrastruttura autostradale italiana, ha fatto questo rebrand. Benissimo, allora, in buona sostanza, io ero un fanatico, diciamo così, del vecchio brand, quindi del vecchio logo principalmente, quel doppio slash che abbiamo visto poco fa, molto austero, molto minimal, con quel bel font incazzato, un universe pazzesco. Pazzesco, esattamente questo qua, secondo me comunicava perfettamente quello che era, cioè quindi linea dritta, molto serio, la parte tipografica in Italic, quindi velocità, transito, entusiasmo. Adesso, per i 60 anni dell'autostrade per l'Italia, dell'autostrade italiana, si fa questo rebrand, cambia completamente l'approccio. Il nuovo logo, di fatto, è una A, di autostrade per l'appunto, con questo arzigogolo, che si scopre a un certo punto del video, in maniera abbastanza scioccante quasi, essere una E commerciale, che vediamo in questo momento, che di fatto è il principio dell'intera parte di… Colpo di scena. Di visiva, esatto, di brand, che genera poi questi pattern, queste cose che stiamo vedendo. Ragazzi, io vi dico onestamente, se no qua è abbastanza più crudo e onesto, è terribile questa cosa, particolarmente… Io trovo scolastica, come ho detto anche nel video, nell'approccio proprio. Il video in sé, di presentazione che stiamo vedendo, è veramente… Datato, è datato. Sì, è datato, è fatto male. La parte cromatica non è giustificata in nessun modo, ci sono 200 colori adesso, e non si capisce a che servono, perché poi l'applicazione di tutto questo brand non la comprendo, magari è un mio limite, però io non vedo come tutta questa grande identità, che per carità ora c'è, prima non c'era, però come possa poi effettivamente esistere nell'applicazione… Chi a che serve fondamentalmente? Esatto, non possiamo non sapere un po' per niente, è onesto, la questione della A che diventa una E, sembra veramente che quello lì aveva lasciato aperto Illustrator, con la E commerciale, ha fatto aspetta se la giriamo, diventa una A, oh mio Dio, pazzesco! Si voleva fare la genialata, però appunto non… È molto scolastico, ecco direi così. Qua ci bastano due secondi per capire tutto, per capire la professionalità di… Mi permetto di dire, la professionalità di questo brand, che sono questi secondi qua. Esattamente, dove non c'è nessun E's, 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 non c'è nessun E's… Esatto, esatto, voglio dire. Sì, sì, no, purtroppo sì, l'agenzia che l'ha curata, non farò il nome, potete cercarla comunque già sui commenti su Instagram, è venuta fuori, giusto per inquadrarvi la situazione, è anche la stessa agenzia che ha curato il rebrand della Nazionale Italiana, quindi l'attuale stemma della Nazionale Italiana, il rebrand di Team e di altri… Ah, sì? Sì, sì, e tanti altri… Quindi diciamo che è un'agenzia particolarmente inserita nelle cose statali. Sì, ed è forse un po'… Questo mi sembra… No, 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 è quello che… Tradizionale, è un po' tradizionale. Questo l'ha stato insinuando, perché ciò non viene detto, poi dopo magari viene detto nei commenti, voglio capire se noi stiamo insinuando qualcosa, per cortesia. No, 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 non insinuo niente, poi questo è un accordo commerciale, fatti loro. È un commento personale nostro. Oltretutto non mi sento di accusare l'agenzia, perché poi queste cose si fanno due, c'è il cliente e l'agenzia, non è che è la coppa di nessuno, e per questo motivo non diciamo mai quando sono cose tendenzialmente che non ci piacciono, chi l'ha fatto, perché poi, voglio dire, il merito o il demerito può essere di entrambi, insomma, quindi, bella. Io ho detto professionale, mi scuso, volevo dire moderno. Questo brand non è moderno, secondo me. Sì, è un po' finto moderno. Sì, esatto, è finto moderno. Posso fare una riflessione che non ho fatto nel video? Due cose, molto veloci. La prima è, forse la loro intenzione era proprio quella di, poi mal fatta, di avvicinarsi alla comunicazione più contemporanea, più vicina ai giovani, diciamo così, quindi ai nuovi automobilisti, utilizzando un linguaggio che nelle forme, poi appunto, qua c'è lì, lì. Nelle forme, quindi, la A con questi ribbon, questi erzigogoli, è tendenzialmente associabile a un'attitudine più contemporanea di startup, cose del genere, tuttavia, poi l'applicazione di questa al sistema autostradale che non ha senso, in verità, e quindi è venuto fuori un esperimento un po' frankestainiano tutto la fine della storia l'altra cosa che è poi una teoria che ho sviluppato dopo è che il motivo per cui cioè la cosa strana è che uno dice ma perché le autostrade sono dritte cazzo perché mi metti il raccordo anulare mi metti la complanare a me piace come rappresentazione onestamente e se c'è qualcuno che si vuole cimentare sono d'accordo che è tutto molto scolastico però è un ottimo punto di partenza quindi se c'è qualcuno che sta facendo magari il portfolio sta facendo progetti a cazzo per appunto spratiglirsi spratiglirsi no è un ottimo secondo me è un'ottima base di partenza prendere un rebranding del genere e applicarlo in una maniera appunto più non voglio dire creativa più cioè meno di da scalica questo qua appunto è tutto totalmente rovinato da la che diventa la e commerciale è una cosa le connessioni è una tristezza incredibile tutta l'esecuzione è appunto un po' di da scalica quindi è un attimo che si può fare un bel lavoro con questa base di partenza quindi una cosa che può aiutare quello che hai appena detto a livello di brief probabilmente poi c'è un altro video che è uscito su Instagram vabbè rispetto alla celebrazione dei 60 anni si capisce che la direzione diciamo di autostrada per l'Italia in questo momento è molto improntata verso la tecnologia quindi mi viene da credere che quel fatto che ci siano queste curve è che insomma l'idea è più che altro legata alle connessioni anche tecnologiche proprio cablaggi o cose del genere ecco che si possono generare poi nel sistema autostradale infatti è vero sappiamo che l'autostrada diventerà appunto una rete molto più tecnologica con le infrastrutture cioè è un brand che effettivamente può essere figo e ti ricordo quando tipo Airbnb ha presentato il Ribbon tutto questo roba ti fa ti fa gasare quando queste cose si intrecciano effettivamente è figo e l'ha fatta Airbnb con le case figurati loro con le reti stradali che effettivamente si intrecciano i cavalcavia che girano bellissimo io lo trovo molto romantico prendere il raccordo autostradale come elemento piuttosto che la linea dritta quindi ormai è stato fatto si poteva fare molto ci si può lavorare molto bene qua tra l'altro stiamo vedendo l'applicazione proprio del branding nuovo al sito e anche qua che ti devo dire la UX la UI è caotica il contrasto qua è sbagliato non c'è un design system non ci sono gerarchie non c'è un primario secondario quindi un po' quindi questo è quanto si può fare di più senza essere eroi cantava con questa gloria perfetto andiamo avanti allora altro rebrand abbastanza interessante no però Giulio mi hai messo un rebrand che volevo quello ti ho messo dei regionali c'è dopo c'è dopo come no ah non vuoi parlare adesso collegandolo ai trasporti ah no perché se no da solo sempre no tra poco no perché il rebrand di Copilot il rebrand di Copilot non è proprio un vero e proprio il rebrand Copilot è l'AI di Mike Frost Mike Frost cosa hanno fatto i amici di Microsoft hanno pensato bene di creare un home page quella che attualmente è l'home page di tutti gli assistenti AI è una barra di testo quindi molto simile al vecchio Google effettivamente no quindi anche c'ha GPT ti introduce con una barra di testo cloud uguale tutti i vari competitor testo dimmi qualcosa loro ti sono immaginati effettivamente nell'home page e se fosse l'AI che ti iniziasse a dire qualcosa è un bel punto di partenza e secondo me le interfacce per l'intelligenza artificiale sono chiaramente il modo di comunicare del futuro della UX della UI loro che hanno fatto hanno creato dei blocchi mi scusami mi fai vedere che è lo stagione lo faccio qua è logico non si vede aspetta devi fare come le fashion influencer aspetta devo passare la luminosità fa come le fashion influencer esatto perfetto questo da desktop quindi anche da mobile è uguale lo posso garantire quello che succede è ti viene presentato un po' di cose che ti possono interessare che non sono altro che degli spunti di conversazione esattamente adesso onestamente il tentativo è un po' acerbo però io la vedo come la via che effettivamente dovranno prendere questi atterraggi anche un po' per educare al mezzo cosa puoi fare quindi in questo caso non so cosa ha aperto esattamente ci sono spunti conversazionali adesso hai ho aperto come funziona una richiesta per i feedback efficaci come formulare una richiesta per i feedback lui ti dà il primo consiglio poi tu da qua puoi imbastire una conversazione con lui oltretutto novità quindi prendi tutte queste robe fatti un programma di allenamento vedi un programma per l'allenamento tutto super cerchiato ci sta tutto moderno trova qualcosa impara delle parole nuove cioè banalmente tu non stai facendo un cazzo vetti là poi probabilmente inizierai a imparare da te quindi vedi che sei un fanatico delle parole e ti dice ascolta dieci canzoni di testi fighissimi lo trovo molto interessante è un primo approccio a una UX basata sull'intelligenza artificiale stavo cercando in realtà un video presentazione perché l'avevo visto da qualche parte perché la mia osservazione era che effettivamente questo branding è carino moderno è molto moderno effettivamente c'è una palette un po' più desaturata in realtà cioè è figo però va in contrasto un po' a quella che è sempre stata l'identità sia di Microsoft che di Copilot che era quella tutta gradientata Glass quella roba lì che in realtà era abbastanza unica cioè non lo so nell'idea del branding quindi di rendere qualcosa riconoscibile siccome era più riconoscibile questa che quella che vi abbiamo messo io quello che sto notando è che tutti quanti stanno cercando un po' di nascondere l'intelligenza artificiale forse perché avevano avuto dei segnali magari di paura da parte degli utenti chiaramente tra virgolette da parte degli utenti e di approccio cioè di resistenza all'approccio e quindi magari stanno cercando di utilizzare tutte cose più tenui più più facili da approcciare dal punto di vista proprio visivo è un'ipotesi non lo so perché appunto chiaramente Microsoft era bella riconoscibile così con quei contrasti incazzati super saturata e poi adesso ci stanno andando dentro di gradienti pazzi però c'è da dire però che appunto io non so per quale motivo a un certo punto ho iniziato a usare Copayette abbastanza cioè come principale sul telefono per chiedere le stronzate tu? sì così a caso e Copayette fino a questo prima di questo era ancora più off rispetto a quello che stai dicendo era veramente aveva un'interfaccia totalmente tech cioè molto impersonale non c'era proprio niente era nero molto triste adesso gli danno questo aspetto in realtà secondo me con quello che stava dicendo anche Nanni un po' si avvicina perché in alcune interazioni non so fa vedere scenari naturali ah è vero cos'è un po' più soft che chiaramente mixando un po' identità visiva di Microsoft quella che abbiamo visto negli ultimi tempi molto figa è questo approccio umanizzante dell'AI secondo me è un buon compromesso sfortunatamente in Italia non si può ancora parlare perché non parla italiano quindi non ha ancora la capacità di parlare però appunto diciamo che è tutto nato da quello hanno dato la voce a Copayette e quindi hanno fatto il rebrand e di conseguenza più umanità anche nelle informazioni più umanità più umanità come umano lei dategli più umanità questi computer una bella robetta una bella robetta una bella robetta va bene dai breccia perfetto te lo dico subito allora parliamo finalmente del rebrand dei regionali che cosa sei contento Giuliano? allora sono contento sono contento sono detto per diverse per un paio di cose allora ti ho messo il canale youtube perché diciamo che la comunicazione in sé sarà fatta attraverso due video se vai nei video appunto ci sono due le nuove livree dei regionali e il secondo che è la campagna di lancio puoi partire con quello che vuoi dopo lo spot nel frattempo vi dico appunto stiamo parlando dei treni regionali quindi la parte dei treni che connettono tutti i comuni dell'Italia in una sostanza che fino ad oggi non aveva una vera identità in realtà ci si riferiva ai treni regionali perché sapevi che erano treni regionali ma non esisteva l'idea del regionale come brand regionale quindi è una cosa piuttosto nuova e piuttosto interessante da un punto di vista di brand quindi questa è la prima cosa che vorrei sottolineare la bellezza e noi possiamo dire che l'abbiamo proprio chiamata questa cosa è vero hai ragione facciamo l'episodio su treni in Italia e parliamo proprio di questo esattamente di questa cosa è una risposta un po' a quella roba lì perché la cosa interessante di questa cosa qui è immaginare e capire che adesso la parte di ferroviaria italiana di ferroviaria dello Stato ha effettivamente due anime con due brand ben diversi e ben specifici abbiamo il frecciarossa tendenzialmente rosso proprio nella parte cromatica di comunicazione è il regionale che è la scelta green che è la scelta green hanno scelto il verde quindi questo approccio tendenzialmente verso queste cromie che per l'appunto poi di fatto è un treno tendenzialmente molto moderno proprio da quello che ho capito come il treno treno il treno itaci incazzatissimo sono bellissimi i treni regionali sono molto belli questi qua sono i trenord ci sono già in giro l'hanno soltanto ricolorati sono quei rock quelli di cui abbiamo parlato perfetto sono treni comunque molto all'avanguardia effettivamente anche particolarmente sostenibili da un punto di vista proprio di consumi e di conseguenza hanno scelto di andare si è scelto di andare verso una strada che racconta un po' quest'anima green devo dire ovviamente non ci si aspettava non mi aspettavo cosa di evoluzionare da un punto di vista di brand perché qui l'importante è una cosa di cui parliamo nel video questa cosa qui il creare un'identità visiva sul regionale aiuta tutti aiuta chi usa il treno aiuta lo straniero che arriva in Italia perché capisce che treno deve prendere non ha aiutato me quando sono dovuto tornare da Trento e ho perso lo sbagliato treno però sì potrebbe aiutare questi qua come diciamo anche aveva questo colore qua e il treno che ho preso ah quindi è imbrogliato quindi questi qua sono diciamo functional brand che appunto servono a qualcosa e dare un'identità per l'appunto molto potente molto chiara a questi brand qui è utile a tutti quanti per cui il lavoro che sono fatto da un punto di vista visivo è giusto è corretto niente da dire l'unica cosa che mi sento da dire che vabbè mi ho fatto sorridere è che lo spot di lancio ha questa tagline che è Rebel Revolution che suona molto bene anche perché avevano buttato sulla R di regionale che appunto fa parte del ruolo quindi regionale Rebel Revolution tuttavia inizia con una frase per andare a sentire che i veri ribelli oggi sono quelli che rispettano le regole che è un po' come dire ragazzi prendete i treni però non buttate le carte a terra non fate casino è molto bello e comunque c'è da dire che non è scontato avere un sistema ferroviario diciamo non voglio dire secondario però effettivamente la freccia è il servizio di lusso della rete dell'infrastruttura ferroviaria avere una cosa secondaria in questo senso così curata e con i treni nuovi ma ci sarà quello là che dice io vado col treno che fa schifo piano piano li cambieranno chiaramente fanno ritardo perché chiaramente la rete ferroviaria è soggetta a un milione di imprevisti sarebbe bello che tutto fosse unerare tutto quando c'è no non è così non è così ma almeno abbiamo una rete ferroviaria non era scontato che si facesse questo lavoro di comunicazione no per niente è molto contento tra l'altro mi stavo notando puoi mettere un attimo uno zoom sul logo cioè allora perché me ne sono accorta adesso stavo cercando di capire negli ultimi tempi che cosa fosse cioè il logo ah come che cos'è allora questo qua è duolingo dai se fosse ci sono arrivati adesso aspetta seguimi il ragionamento intendo quello lì quello short non ce la faccio è una R di regionale sì un pin di posizione esatto è una swoosh della velocità allora no poi guarda se ti focalizzi bene sulla cosa no cioè su quel simbolino lì quindi pin e quello swoosh devo chiedere a Ciro idea però sembra sembra secondo me che lo sia il treno visto lateralmente che sta andando e infatti il pin è tipo la parte del vetro davanti del treno hai capito ti stai drogando può essere ma non è così sarebbe bello non lo so lo vedi lo vedi qua vedi quel dettaglio lì cioè io da qua non no funziona bene su questa visualizzazione qua dove appunto sembra l'ombra lo vedi il treno che fa la curva sì che il verde è l'ombra interna di un treno a tre quarti esattamente esattamente magari sto sbagliando non penso proprio che cazzo è quella S DFS la S di Ferrovia sì 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 probabilmente anche sì la rete ferroviaria riprende Mitch ci faceva vedere dalla reggia che anche il dalla reggiana anche il logo di Ferrovia dello Stato ha questo elemento di movimento l'hanno reso un po' più geometrico non è che mi stai dicendo che questo qua è un'anticipazione del rete ferrovia dello Stato per caso vabbè vabbè che è bello e le fanno rosse per la freccia rossa e scrivono F oh cazzo va bene quanto godo a sgamare queste cose magari non è vero magari è vero ma che cazzo ce ne frega ci piace gasarci così va bene andiamo avanti ancora in Italia il paese più bello del mondo dai voglio vedere questa roba perché la stavate vedendo prima non mi volevo spoilerare niente parliamo del stiamo parlando di Barilla vero? Barilla sta merando packaging quotidianamente super refresh allora si oh che palle tutti questi cazzo di pop up allora che cazzo mi fate navigare santa pace navigate allora è un nuovo brand della linea al bronzo che è la linea un po' più premium se vogliamo guarda che nanni come sta vedere se cazzo perché non è chiaramente il mio campo perché la matrice che ti permette di fare lo stampo per la pasta è in bronzo la trafilatura e quindi è un po' più ruvide di conseguenza il sugo resta meglio vero? dai sì approssimativamente va bene di conseguenza il taglio è più lento e la pasta costa di più ok? ci siamo? più o meno? sì più o meno è accettabile di conseguenza loro avevano la necessità di comunicare anche dal packaging il fatto che fosse una linea un po' più costosa avevano già fatto un rebrand con il nuovo logo eccetera eccetera era un rebrand siccome è un po' un po' piatto se non sbaglio fu proprio con le pacche al bronzo fu proprio il modo in cui Barilla lanciò in test quasi il nuovo logo perché fu i primi pack dove si iniziò a vedere il nuovo logo poi arrivano quelli nuovi quelli con la pasta in 3D che si intresce a modo molto fico però questi qua fuono i bruttissimi questi erano bruttissimi se posso dire la mia a me blu su rosso c'è una grande differenza comunque esatto questo è molto più fatto molto più come si dice professionello crafted c'è un bellissimo discorso qua secondo me dove possiamo vedere finalmente tracciando una linea come si muovono questi grossissimi brand quando fanno un rebrand cioè gli step proprio processuali con il quale tu arrivi a questa soluzione che non poteva essere la prima tu devi passare per questo siccome poteva essere la prima questo è stato un errore sai perché no perché qua vedi quanto è presente il blu vedi quanto è presente il blu prima adesso perché tu devi dire che Barilla sta facendo questa cosa Barilla è la pasta blu cioè nel senso io credo che queste cose vadano a pesare con calma vado a pesare con calma devi passare da qualcosa che è una via di mezzo ti devi accontentare a questa roba qua che obiettivamente è figa e che tra l'altro cosa che dicevamo già quando arrivano i pack nuovi Barilla oggi si può permettere di fare grazie grazie a tutti quei pastifici più piccoli che hanno portato cultura di brand visiva nei nostri supermercati nel corso del tempo a tutti quei voglielo che sono emersi nel corso del tempo hanno portato un po' di sparkle in più un po' di succosità sì hanno portato il pacco opaco all'interno della grande distribuzione ma se vedi appunto proprio lo step intermedio ci stava che stavi facendo vedere prima effettivamente in questo packaging qua lo metti vicino al pacco vecchio Barilla chiaramente non è riconoscibile certo come Barilla perché non ha il badge ovale il nuovo cioè il nuovo ha soltanto capito d'oro Barilla manco più in bianco il blu c'è molto di meno quindi effettivamente lo puoi quasi scambiare per un altro brand che magari è quello che vuole no no non penso però dai esatto hanno potuto mettere da parte un po' più il blu a favore di appunto l'agronomia più corretta quella dorata quella bronzia in verità quindi bello poi ora è bronzo e blu cioè il pacco è veramente fatto bene è veramente bella la tipografia di al bronzo cioè veramente figa bello non so se il packaging è opaco ma mi sarà anche lì sarà opaco comunque qua hanno cambiato il rosso perché qua c'era un contrasto sembra aveva molto più flash è vero eh vedi avranno abbassato anche quello fatto un po' più si sono si sono potuti distaccare dal hanno potuto creare un elemento di evoluzione dal packaging che è questo qua che però era un elemento di raccordo con il brand originale molto bello contentezza contentezza Nanni allora finalmente parliamo di questa straordinaria cosa parliamo di olandesi olandesi matti dovete sapere che diciamo noi apprezziamo tantissimo il design nordico perché chiaramente raggiunge una sofisticatezza e una come si dice delicatezza di intenti anche di pensiero e di pensiero che è troppo facile per noi cadere dire è una cazzata ok non fatelo esatto non fatelo cercate un attimo di comunque immedesimarvi non in italiani o addirittura americani che chiaramente non capiranno mai ragionamenti così perché questa sedia che verrà presentata al Sonore di Eindhoven di 17 metà novembre metà ottobre scusa è praticamente una sedia che risolve l'annoso problema della sedia armadio ok cos'è la sedia armadio è quella sedia che in tutte le case ospita gli indumenti non troppo sporchi per essere lavati e non troppo puliti da essere rimessi nell'armadio perfetto quindi c'è quel limbo nelle case di ogni persona che è rappresentato da una sedia perfetto questa rewear chair rewear rewear quindi sedia da reindosso fa proprio questo quindi è una sorta di stendina delle braccia che accolgono i vestiti di una settimana e ti permettono di mettere i vestiti li metti sulla sedia in una maniera diciamo ordinata che prendono aria quindi che non si ammappuceano detto in francese per riutilizzarli poi da lì parte il pippone del prodotto industriale del prodotto diciamo arredo che i vestiti messi su una sedia del genere hanno una vita più lunga del 30% puoi riutilizzarli bla 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 queste sono totalmente cazzate però il punto di andare a prendere un oggetto che è presente nelle case ti dimostra quanto effettivamente il design dell'arredo il design del prodotto cambia in base agli usi adesso il dramma che abbiamo noi occidentali è mi prendo la maglietta l'ho messo una volta la metto a lavare sti cazzi il problema è mettere a lavare le magliette ogni volta che vengono utilizzate consuma un botto di acqua di energia e ti riduce anche la vita del capo quindi la cosa ideale sarebbe appenderla in casa non hai un posto per farlo lo butti sulla sedia lo butti sulla sedia e queste sedie appendi abito io la trovo molto intelligente chiaramente per un contesto dove le case sono molto grandi mi piace tantissimo il brief questa cosa qua è fichissima l'osservazione che ha avuto tutte le persone del mondo perché io sfido a trovare chi non lo fa appoggia i vestiti e non lo fa facciamo la sedia apposta per questo fichissimo anche solo come input lasciata il risultato è grosso è piccolo non importa di sedie così che si danno questo obiettivo ce ne sono tipo quelle lì alte ma se non mi sbaglio anche sedie molto vecchie erano alte e permettevano di mettere i vestiti sopra quindi è una novità quella che è la novità è renderla proprio un un prodotto dire il cioè dare dei dati dei dati a riguardo di cioè dei dati a supporto di questa idea che effettivamente poi è una sedia dove puoi attaccare pesa 12 kg in tutto questo ma ci sta che ne pensi sono d'accordo con te è bello il brief l'esecuzione non è il mio però ci sta io sono un po' più da prodotto industriale questo è molto è un bel prototipo eh sì è molto artigianale certo certo infatti probabilmente questa se vi industrializzarla devi passare diverse fasi perché posso diventare una cosa vendibile però io la vedo un bellissimo prodotto per Foppa Pedretti no è vero è un bel prodotto in legno è una cosa bella secondo me è una prima interazione semplificato quindi con meno braccia più piccola compatta tu immaginala immagina soltanto questa qua così da giardino quindi vicino alla piscina e ci mette ad asciugare i costumi non ce l'ho io però chiaramente chi può comparsi una sedia di astendino da probabilmente 600 euro se non più ha pure la piscina fottuti olandesi va bene va bene che grandi cazzo a proposito di nuove esigenze posso andare in quella notizia mia certo certo ok a proposito di nuove esigenze a proposito di legno non lo so vi vorrei parlare di questo progetto che ve la spazio così ve la vendo così è il google calendar per i bambini ma sei veramente un clickpater allora fondamentalmente io odio chi fa queste cose qua non è vero non so neanche cosa te l'ho venuto malissimo in realtà allora fondamentalmente è un calendario per i bambini perché si è scoperto effettivamente in ricerca hanno visto che i bambini imparano di più visivamente soprattutto in una fascia precisa di età e in quella fascia di età sono legati alle routine di conseguenza questo è un calendario che aiuta i bambini a gestire la giornata in modo più regolare e far parte di questo processo della giornata quindi sanno cosa devono fare il lunedì quindi magari il lunedì è il giorno dove si gioca con il pupazzi che ne so il martedì è il giorno in cui devono riordinare la camera eccetera eccetera e a me piace in realtà molto l'esecuzione perché hanno questa board questo pannello molto originale se deve essere onesto perché è qualcosa di totalmente nuovo c'è anche il nome lì che è totalmente magnetico e loro si posizionano questi tassellini in modo vedo adesso se riesco a trovare il video in modo assolutamente personale ed è parte del gioco vedete loro li spostano è un bambino così piccolo non sta capendo niente però è chiaro che se lo mangia vediamo se riesco a trovare il video perché c'è allora in effetti il design è molto sì però immagino che si inizia da sei anni cioè cinque sei anni non so d'accordo perché se non tu li abitui a questa cosa qui facciamo insieme quello che dobbiamo fare oggi ti metti col bambino piccolo quello non capisci pianifichiamo la giornata abbiamo un problema mi sa è successo no buio oh no buio pesto va bene buio pesto sì pianifichiamo la giornata sì pianifichiamo la giornata non lo so mi sembra una di quelle cose così picco là c'era il neonato è un bambino molto piccolo però secondo me se tu lo abitui mi immagino una scena due anni facciamo questa cosa cos'è questo il letto andiamo al letto prima dopo aver fatto la cacca e quindi c'è ok ok crea una sorta di experience gamificata wow perché poi gamification della routine questo è l'IBMismo che c'è dentro l'Italia totalmente lo teniamo un po' e anche il design è molto figo dai no il design mi piace molto onestamente io lo userei quello che non capisco è effettivamente quanto può essere utilizzato da un neonato per 6 11 anni mi riesco a a vedere ma puoi fare un tile però per 11 anni quel coso però non lo so mi sembra un po' troppo giocoso non lo so non penso alla fine comunque devi considerare che anche a 10 anni è una routine domestica cioè vai a scuola torni mica vai a fare i ragazzi tua certo beh vabbè dipende poi magari con i tastellini con i customizzati non ce l'hanno è molto carino a me sembra una robetta è una robetta è una robetta per questo di quando hanno fatto tipo 80 miliardi di dollari di un mese finanziamenti infiniti alla San Francisco eh sì per creare bambini con disturbi ossessivo compulsivi non posso andare a fare la cacca devo prima fare i piatti ai 6 anni non ci arrivi al lavello che vuoi sono tutte famiglie terribilmente ricche nei video sono tutti proprio famiglie che non esistono però case così grandi che i bambini hanno una zona calendaria in casa però sì ci saranno è interessante dopo ci saranno le call le call per i bambini esatto contro i bambini adesso sentiamo lo zio 40 minuti va bene va bene su Skype molto bello molto bello molto bello Skype quello che i bambini ancora non fanno è andare spero non lo so su Twitch perché è rebrandone di Twitch ragazzi ancora ogni due mesi parliamo di un rebrand di Twitch mi sono pure un po' rotto i coglioni non ti stupirà sapere che l'ultima volta abbiamo parlato di un rebrand di Twitch è stato 5 anni fa cosa non ci credo non c'era neanche il covid all'epoca penso un po' ma non è vero abbiamo parlato te lo giuro non è successo allora benissimo quindi droppato rebrand di Twitch lo stiamo vedendo in questo momento l'agenzia è questo qua Portorocia allora diciamo così è un'evoluzione del vecchio brand ho messo anche quello Breccia se vuoi vederlo adesso lo vediamo e di fatto se vi ricordate più o meno quello che stiamo vedendo adesso non è niente di troppo nuovo rispetto a quello che era precedentemente diciamo un'identità fondata principalmente sul caos assoluto che è diciamo il main concept dell'identità di Twitch prima era così quindi già con la la voa del 2019 era stato introdotto questo questo sorta di gradient gradient esatto con questo movimento rainbow rainbow gradient grazie mille grazie mille però tutto il resto dell'identità era tutto sommato molto flat quindi anche AC rainbow gradient grazie grazie mille si era tutto molto flat il lavoro che più che altro veniva fatto era con la giusta posizione degli elementi quindi le cose si sovrapponevano si mischiavano cadevano una sopra l'altra delirio assoluto benissimo questo brand qui fa la stessa cosa ma con 3D e complica la roba e quindi questo che vuol dire vuol dire che questo che vediamo adesso sembrano dei mock up non so se poi verrà effettivamente poi portato applicativamente sull'app quindi sul sito insomma su Twitch stesso oppure sono solamente tra virgolette applicazioni quindi l'advertising e la comunicazione è un caos delirante ed è molto figo se vediamo più giù è già stato applicato al TwitchCon quindi l'evento di Twitch che fa l'annuale con tutti quanti insomma gli streamer la gente che si entusiasma e qua c'è stata un primo già applicazione di queste cose quindi banalmente anche cose fisiche bubbly gigantesche borracce test di dinosauri se poi c'è niente ricorda non è mai finito un rebranding se non hai la borraccia ricorda sempre di mettere la tua borraccia lì nel tuo deck guarda l'unica cosa a me piace tantissimo piacciono le icone 3D è tutto perfettamente coerente col target qua rientriamo nel discorso che abbiamo fatto l'altro giorno per Amazon Video e per è Figma per Figma e per Paypal ok cioè che questi branding si devono applicare poi al prodotto vero e proprio perché si può fare si può fare non è detto non devono per forza essere due cose separate secondo te quella wheel che vediamo prima questa qua no questa qua è una cosa fattibile sul sito cioè tu ti scegli la categoria c'è questa wheel che tu giri 3D e scegli il coso si flippa la carta si apre no non dico così però però magari questa roba qui la puoi fare nel logo cioè ogni volta che entri ti dà un flash cazzo una gif una strunzata ci sono altri servizi che lo fanno sicuramente attualmente non c'è ancora niente di messo su vi dico questa cosa qui se ne stai parlando adesso non so per quale motivo ma io l'avevo già trovata un mese fa e ancora non c'è niente effettivamente fatto forse perché è uscito il TwitchCon quindi sarà un po' anticipata adesso forse in rolling non ne ho idea comunque la cosa è che insomma è ancora più caotica un sacco di flash un sacco di flare elementi 3D è una robetta è una robetta sicuramente complicata è un po' impossibile ma vabbè altre cose che pensavamo fossero impossibili come poi non abbiamo visto quella vecchia brand che ok era adesso un po' datata però non l'abbiamo mai vista non l'abbiamo applicata non l'abbiamo mai vista cioè questa roba qui è una roba complessata io comunque ormai come ci siamo detto io una volta ci siamo uccisi riguardo a Figma questi brand qui che vivono su piattaforme Figma è un caso ancora più specifico lavorano tanto cioè costruiscono i loro brand sulla comunicazione che fanno quindi tutta questa roba qua è in prodotto alla comunicazione poi una volta che entri comunque sono dei canvas abbastanza neutrali devono essere comunque molto semplici alla fine navigabili applicabili anche manutenibili ecco manutenibili considerare che un branding così caotico anche da manutenere su una piattaforma con così tanti utenti diventa un po' un delirio non è banale non è banale il fatto che piattaforme con così tanti utenti vedi Facebook vedi Instagram vedi Twitch vedi Youtube siano chiaramente un po' più difficili Amazon siano difficili da rendere così fighe però non è neanche la cura è anche la cura è anche la direzione creativa è sempre la direzione creativa voi avete mai visto il SEO ci sono tanti tanti limiti tecnici sì è un pazzo è un pazzo con Android che non ha alcuna idea di quello che sta facendo l'unico video che è uscito fuori seguiva delle tipe tutte nude su Twitch è un pazzo voglio dire questa animazione che stiamo vedendo qua questo logo 3D questo è una loading cioè qua ogni volta che la pagina si può caricare si deve caricare questo potrebbe apparire non è una roba adesso c'è una roba girella un girello metti il logo che ti fa l'occhiorino bello è semplicemente direzione artistica basta ho fatto la mia ci sta ma questo sono d'accordo anche perché qua è più fattibile come questo ce la vedo pure sicuramente si può scalare in modo tale da avere qualcuno di questi elementi non in questa forma così figa però si può scalare per averli almeno averli ma Nanni parliamo un po' di pelosetti amici pelosetti i nostri amichetti pelosetti che bello crocs ha fatto le scarpe per cani i nostri amichetti a quattro zampe non ci chiederai mai si adesso se voi odiavate le crocs odierete anche le crocs per cani per cani perché adesso puoi vedere un cane con il suo padrone che camminano tutti e sei le loro zampe con le crocs ovviamente chiaramente a San Francisco in the bay area però è una cosa che esiste a quanto pare è un'esigenza guarda che non è nemmeno uno di quei prodotti così del cazzo non è per parlare crocs ha lanciato la linea di scarpe per cani sono progettate tant'è che ci sarà un modo per misurarle perché i designer dicono che effettivamente due le cose molto difficili uno lasciare le scarpe attaccarle al zampa che è una cosa verticale cioè il piede è diverso già è stata una bella challenge l'altra cosa è la taglia perché alcuni in molti cani hanno le zampe di dietro diverse dalle zampe davanti quindi anche il sizing di queste scarpe non è proprio banale è un prodotto effettivamente è un prodotto quindi tenetevi forti perché scarpe per cani è il nuovo prodotto quindi sì che dire ci sta in verità non ho niente da dire in merito perché non mi stupisce quasi per niente questa cosa esatto io mi chiedo come mai nessuno ancora si sia specializzato in scarpe per cani fa ridere ma fa anche molto riflettere decisamente ma poi che complessità i cani sono tutti diversi sono quelli piccolissimi giganteschi sì sì non riuscirai a catalogare per 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 razza vai vai nel negozio le misure esatto è quella cosa che fa di papà col pollice tuo padre la faceva a mio padre quando beveva le scarpe metteva il pollice sull'alluce e diceva qua va bene esatto e lo fanno anche con il cane vedi le taglie metti là il tuo cane esiste avete cercato dei video su sta roba come non esiste certo che no dei video vorrei vedere cani l'unico post che io ho visto sull'instagram di crocs è soltanto un visual tipo questi qua questa siamo sicuri che non è intelligenza artificiale io spero che lo sia no però non è vero invece è una cosa molto carina anche perché c'è da considerare sempre tutto il discorso che comunque i cani camminando tipo sugli asfalti si fanno male li porti in spiagge si fanno male però poi si fanno le uniche esatto tanti discorsi che affronteremo in caffè design per anim for pets io ho capito come va ho capito come va a finire finiremo con i cani con le scarpe cento per cento ti dico che tra 15 anni sarà la base proprio è sicuro non è un cane sicuro perché effettivamente porta a serie comunità arriva a casa toglie le scarpe il letto sono puliti scarpiere per cani sicuro ragazzi abbiamo appena visto il futuro che vi piaccia esatto che vi piaccia o no è il futuro va bene ultima notizia molto velocemente qua perché giusto volevo fare una considerazione parliamo tu ti sei fatto una settimana malato a casa a catalogare rebranding o sono usciti tutti quanti nella settimana che tu eri malato per cortesia quanti cazzi rebranding fanno allora parliamo di un brand che a molti di voi non dirà assolutamente niente si chiama Mountain Dew di fatto è un brand che in Italia non credo si venda per niente fa parte del gruppo no come no è commercializzato un gruppo Pepsi parte del gruppo di Pepsi di fatto tipo una Sprite forse una cedrata è un misto da una cedrata e una Red Bull fatto il rebrand ok molto figo devo dire craftatissimo anche qua sempre molto bello la cosa di cui volevo parlare è esatto questa cosa qua la brand evolution ok allora prima di questo rebrand qui che vediamo in fondo 2025 plus vedete come si manifestava prima cioè questa cosa qui quando io lavoravo in Pepsi quindi quando stavo in Cina Mountain Dew era così quindi ovviamente come la vediamo adesso quindi tutta bella tagliente così ed era il brand associato della famiglia dei prodotti Pepsi a gli sport estremi quindi era tipo super cazzuti ci buttiamo la paracattina era tipo Red Bull diciamo così no quindi skate casino BMX BMX vedi molto agile molto duro come approccio la cosa che volevo dire è come il brand come la parte visiva di brand segue poi la parte strategica quando adesso Mountain Dew per qualche motivo commerciale ha deciso di abbandonare completamente quella strada e parlare di natura escursioni hiking montagna di fatto Mountain Dew appunto appartiene storicamente al concetto di montagne non mi ricordo di quale specifica montagna dell'America e quindi cambia completamente l'approccio lo vediamo anche nei visual infatti quello che nei mock-up che sono stati mostrati per le poche robe e di come quindi questa direzione artistica poi seguono la parte visiva seguono per i passi quello che è la direzione strategica del brand evidentemente Montagnolo non riusciva a essere più rilevante oppure hanno pensato che il mercato degli sport estremi non era più importante per loro magari Mexico avrà acquisito qualche altro energy drink non lo so non sono aggiornato a riguardo quindi si iniziavano a cannibalizzare lo stesso mercato perché chiaramente se tu metti Montagnolo in petto a uno skater certo o a un refa motocross non puoi mettere l'altro brand che magari ha già acquistato non so forse avrà comprato qualcosa di nuovo è molto figo perché io Montagnolo l'ho sempre vista come l'accedrata incazzata però mi piacerebbe tantissimo che i tassoni uscisse dal dal dall'herite tassonacci 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 portate la paracadute benissimo beh beh questo è quanto solo questa roba qui tanto per dire quanto è bello quanto è bello quando queste cose collidono collidono e si manifestano così perfetto basta così io vi invito a vedere il video che è uscito giovedì scorso dove vi facciamo vedere un po' dietro le quinte di Caffè Design quello che facciamo oltre a Caffè Design i nostri lavori le nostre cose io solo Caffè Design tu so grazie al Dio meno male solo Caffè Design io ho letto un commento bellissimo prima che diceva parlava di te diceva io non avevo mai visto la roba di Giuliano è veramente bravo quel ragazzo consacrato da questa persona veramente bravo quel ragazzo grazie mille molto bello questo è quanto ci vediamo l'anedì prossimo accattatevi i cappelli che sono usciti accattatevi da Gallo ciao 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 ciao